Che gli amici qua in studio hanno capito com'è questa statua Sentiamo chi c'è in linea, pronto? Buonasera Carlo, sono Irene da Montesilvano Irene, com'è la statua? Dammi un inizio Molte, molte sono così, non tutte, alcune sono così Nuda Nuda? Brava Irene, nuda! Nuda, attenzione! 17 milioni, dov'è l'asso? Sempre nudi Non sempre, alcune sono nudi Eh, facciamola a 4 E grattiamola a 4 allora, attenzione, suspense Molto difficile, molto difficile Suspense No! No! Irene, il gioco è ancora in mano tua Com'è la brocca? Eh, rotta No, ciao Irene, mi dispiace Altra telefonata, pronto? Pronto? Chi è là? Sono Stefano dalla provincia di Livorno Stefano, com'è la brocca? Eh, diciamo, smanicata Com'è? Smanicata Smanicata, no! Smanicata, dè! Non è così, ciao! Altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera Buonasera Sono Teresa Teresa, da dove ci chiama? Chiamo da Altamura, la città del pane Eh, bella, bella Com'è la brocca? Eh, una piccola mano Non posso dire di questa brocca Dai! Capiente? No! Pronto, altra telefonata Com'è, com'è questa, questa brocca? Com'è? Pronto? Pronto? Ciao! Pronto, il tuo nome? Sebastiano Sebastiano, da dove ci chiami? Dalla Sicilia Esattamente da dove? Da Messina E vai, dimmi com'è la brocca Panciuta Bravo, Sebastiano, bravo! Com'hai fatto a capirlo? Ma così! Va beh, allora, dimmi un po', dove potrebbe essere l'asso? Ma questo è un problema Eh, qui, però nessuno lo sa Dai! 18 milioni e 500 mila lire La 5 Chi, chi ti suggeriva? Chi suggeriva? Il mio figlio diceva l'1 E tu hai detto il 5 Grattiamo il 5, allora Vai! Vai, vai, Elena 5 ha detto No! Io, no! Non, no, no Fermo che il gioco rimane ancora in mano tua Il dado Com'è il dado? Il dado? Sì Dai, Sebastiano Dai, un aiuto Dai, 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 dai No? Stratto Stratto No! Ciao! Altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera Buonasera, il suo nome? È Lorella Lorella, da dove? Dalla provincia di Siracusa Dai, com'è il dado? È una traccia? Non posso Come no? Per ora non posso Eh... Com'è il dado? Dai Vincente Vincente, no! Altra telefonata, pronto? Buonasera, sono Anna da Firenze Anna, come va? Elena Elena, scusami, 19 milioni e 500 mila lire Com'è il dado? Eh, un aiuto? Non posso Eh... Sfaccettato Sfaccettato, no! Ciao Elena Altra telefonata, pronto? 20 milioni il Montepremi 20 milioni Dai, chi c'è in linea? Pronto? Sapete che il Montepremi sale di 500 mila lire ogni aggettivo sbagliato che viene da voi detto Questi sono gli aggettivi detti finora Com'è il dado? Pronto? Sì, buonasera Buonasera, ciao Carlo Ciao, il tuo nome? Sono Maria Maria, Maria Dimmi com'è il dado Eh, nessun suggerimento? No, non posso Non puoi? Eh, quadrato Quadrato Geniale come risposta Ma non è così Altra telefonata, pronto? Pronto? Chi c'è in linea? Pronto, sono Silvi della Svizzera Ciao Salutiamo tutti gli italiani che ci seguono dall'estero e non solo gli italiani che ci seguono dall'estero ma tutti quelli che ci seguono fuori dai confini italiani Com'è il dado? Numerato No, ciao Vi state orientando su un certo tipo di dado Pensate ad un altro tipo di dado Pronto? Pronto? Chi c'è in linea? Mi chiamo Raffaella Raffaella, da dove? Da Scalea Di bella Scalea Com'è il dado? Per piacere, mi aiuti L'ho detto ora ora L'ho detto ora E non può dire più nulla E non posso dire più niente Però l'ho detto ora Io non devo pensare al dado normale Alda E il dado del brodo? Eh? Il dado del brodo? No, no È un aggettivo che dovete dire Il dado, ve lo dico altrimenti state lì tutto il fine settimana a pensare Era vegetale Eccolo com'era Eccolo com'era Comunque lunedì riprenderemo il nostro gioco da 21 milioni e 500 mila lire Quindi mi raccomando Vi aspetto alle 20 e 40 Buon... Eh? Dove era Lasso? Dove era Lasso? Mentre ci dici dove era Lasso Io invito gli amici di Rai 1 a seguire il grande appuntamento Sotto la 1 Era sotto la 1 Vieni Che qualcuno Eh? Rascapure Dicevo il grande appuntamento di Rai 1 con Superquare e Piero Angela Noi ci vediamo domani pomeriggio e con l'appuntamento invece alle 20 e 40 di lunedì Ciao a tutti Arrivederci